Ben ritrovati su Agronotizia ed un saluto da Giuseppe De Vitis. Tendenza per i prossimi 15 giorni. Questa nuova settimana inizierà all'insegna del maltempo, soprattutto al centro, parte delle regioni meridionali, sull'area ionica e sul nord Italia invece tempo tranquillo. Però, attenzione, dei rovesci di pioggia, dei temporali, delle nevicate in appennino lunedì e martedì, poi tende a migliorare. Rinforzo di nuovo dell'alta pressione, situazione più tranquilla, solo della variabilità, a basso rischio di isolati fenomeni, cosa accadrà? Verso metà mese, nuovo ingresso di aria più freddina da nord-est e quindi di nuovo giù con le temperature, giù con le temperature per 3-4 giorni. Quindi dopo questa fase movimentata ci sarà una fase più tranquilla e poi di nuovo il ritorno di un po' di freddo da est. Per il momento mi fermo qui, buon proseguimento, arrivederci.